Caro Espo, bentornato, ti vedo abbrunzato, ti vedo pronto, bello carico, sei il primo a parlare della primavera. La domanda che ti faccio è, tu che sei un classe 96, che hai visto Hernan Crespo anche da piccolo in tv, che effetto ti fa adesso trovarti come allenatore? È un effetto straordinario, da piccolo era l'idolo di tutti, perché era una persona che era formidabile, ha girato palcoscenici importanti, era uno dei dieci attaccanti migliori al mondo, come abbiamo detto prima, visto che ha segnato e fuori dal campo è sempre stata una persona eccezionale, non ha mai sbagliato. Un gruppo nuovo, quello di quest'anno, 96-97, anche qualche 95, le potenzialità per far bene c'erano anche l'anno scorso, poi c'è stato qualche problema, anche qualche infortunio, questo potrebbe essere davvero l'anno buono in cui anche voi, gruppo, allievi, vincitori due anni fa, vi consacrate l'attenzione di tutti nel campionato primavera. Che campionato ti aspetta? Mi aspetta un campionato sicuramente bello, conosciamo comunque le squadre, sono tutte squadre difficili, è un campionato difficile, i 97 secondo me sono molto bravi, abbiamo visto anche l'anno scorso che comunque sono arrivati quasi in finale, che hanno giocato contro l'Inter, hanno fatto una prova, se non dire, buona di più e secondo me uniti a noi possiamo fare un grande gruppo. Ma che effetto fa essere uno dei vecchi? Anche se sei, cioè nel senso, voi 96 adesso, l'anno scorso magari potevate anche consentirevi di sbagliare qualcosa, perché era il primo anno, adesso sentire così tanta attesa diciamo su di voi, dover anche trainare i più giovani, che effetto ti fa? Sicuramente a me piace trainare la squadra, mi piace essere un leader, perché comunque i leader nelle squadre ci devono essere sempre e spero che i 97 prendano spunto da tutti, le parti più positive, niente, speriamo di fare un buon campionato. A di là dei singoli, io parlo dello staff tecnico, voi avete uno staff da squadra, top squadra di Serie A, insomma il secondo di Annan Crespo è Castellazzi, che è stato un tattico famosissimo, Paris Saint Germain, Italia, Milan, sembrate davvero una squadra professionistica, è più lo stimolo che c'è a rendere bene e a dimostrare anche a un allenatore come Crespo che può fidarsi di voi la prima esperienza, oppure c'è anche un attimino di pressione, anche di paura di sbagliare o paradossalmente di paura di eccedere anche negli allenamenti per ben figurare? No, sicuramente noi andiamo sempre ai mille, sappiamo che i mister fin dal primo giorno hanno voluto comunque il massimo da noi, infatti ci sono sempre stati i richiami giusti, le spiegazioni giuste sia dal secondo sia dal mister Crespo, che sono secondo me giustissime, ci trattano da prima squadra e secondo me abbiamo tutto per far bene. Hai la maturità quest'anno, ricordo male o ho perso? No, l'ho fatto l'anno scorso. Ah l'hai fatta, ecco, come è andata? L'avevo perso? Promosso, promosso. Fai l'università quest'anno espo? Solo calcio? Speriamo solo calcio. Quindi quest'anno a tutti gli effetti fai, insomma, adesso che sei lì lì, insomma, hai fatto 18 anni, sono 96, ci credi, il sogno di diventare cacciatore lo vedi vicino oppure pensi che sia ancora dura? Perché ormai ci siamo, questo forse è l'anno decisivo di demarcazione tra chi poi fa il salto e chi magari resta nell'anonimato. Sì, magari è meglio non sbilanciarsi subito, speriamo di fare il percorso pian piano, cioè io ho grande attesa di diventare giocatore, lo spero tanto, ci metterò tutto in massimo. Pensi che quest'anno ci sarà anche un afflusso di gente superiore a vedervi, l'effetto crespo tra virgolette? Senz'altro, cioè il nome parla da solo. Allora, niente, dobbiamo venire a fare le telecron anche quest'anno, quindi espo dai un saluto, un messaggio, magari li invitiamo già tutti a venire a Vignola le prime partite. Vi aspettiamo tutti, vi promettiamo di non malfigurare. E se non segna qualcuno entra il mister magari? E entra il mister magari segna. Ciao, ciao.